Però in questo momento ho bisogno di chiudere questo capitolo della mia vita Perché ho voglia di affrontare la prossima sfida E Leone ci tengo davvero ringraziati per gli scorsi tre anni Perché sono stati a mani basse i tre anni più belli della mia vita E hai fatto un gran lavoro Marco, dico davvero Sai come te, ho cambiato percorso, cambiato direzione, cambiato tipologia di video Ora voglio io iniziare a fare sfide fisiche sempre più estreme È come se mi passi il testimone se ci pensi So di non essere minimamente al tuo cavolo di livello, sei veramente bravo Ti auguro il meglio per il tuo futuro, per il tuo nuovo progetto che sto seguendo molto intensamente, te lo giuro Ovviamente ci siamo evoluti, è una cosa fantastica che ci siamo evoluti E che abbiamo tutte queste... È già uscito il mio primo video sfida come imparare i backflip, andatelo a vedere E questo era solo un piccolo inizio Marco, ti auguro il meglio E quindi ragazzi ci vediamo alla prossima Anzi, come sarebbe meglio dire Ci vediamo Leone